Cari amici dell'arte, complesso monumentale di Santa Sofia, una delle tre sedi espositive di Arte Salerno 2017. Siamo qui con il maestro d'arte, benvenuto, Massimo Bramandi. Insomma, ci sarebbe veramente tanto, tanto, tanto da dire sul tuo percorso così intenso e così importante nell'arte. Queste sono delle clip, quindi Massimo, un minuto per raccontare la tua storia e la tua opera. Sì, ciao Federico, questo è un frammento dell'opera Gli Invisibili, appartenente alla mostra L'immagine riflessa, una mostra che è durata tre anni, che ha toccato molti comuni dalla regione toscana e rappresenta i volti degli operai della Shellbox, un'azienda che fallendo ha lasciato 147 persone senza lavoro e di conseguenza ha creato un problema a 147 famiglie. Ho scelto di portare ad Arte Salerno 2017 quest'opera per sottolineare ancora una volta come la mancanza del lavoro a nulla, sbiadisce e rende l'uomo invisibile. Quindi l'arte per ritornare ad essere scudo e spada per affrontare le tematiche sociali e per continuare ad appoggiare e a sostenere l'emergenza lavorativa. Insomma, Bramandi, grazie perché è un percorso veramente importante. Cari amici, un saluto.